amici splendida lezione dedicata al condizionale passato abbiamo già visto qualche lezione fa qualche settimana fa il condizionale presente chiamiamolo così quello che si usa per la maggior parte dei casi oggi però andiamo a vedere il condizionale passato che comunque molto importante perché perché ovviamente si usa in italiano e perché voi dovete capire quando usarlo e quando lo sentite a cosa corrisponde a quale pensiero corrisponde e perché fa parte della lingua italiana e deve essere usato come tante altre espressioni il condizionale passato come abbiamo visto il condizionale è un modo verbale che serve per parlare di situazioni che sono possibili se si verifica una certa condizione il suo principale uso è nel periodo ipotetico quindi se succede qualcosa quindi un'ipotesi io posso io farò io riuscirò eccetera eccetera il condizionale ha due tempi il presente di cui ci siamo occupati nel video 437 che vi vado a puntare qui sopra la slide e il passato che esamineremo in questo video mentre il condizionale presente si usa per parlare di eventi che nel presente sono possibili o probabili il condizionale passato si usa invece per eventi che anche se erano possibili non si sono realizzati ecco per la maggior parte dei casi vedrete che condizionale passato è relativo a eventi che speravo che accadessero per lo più ma non sono successi quindi nel presente abbiamo una frase come la seguente comprerei una macchina presente adesso comprerei una macchina se avessi la patente però non me ne faccio niente senza la patente quindi questo è un presente al passato riguardo una bicicletta una situazione diversa posso dire avrei comprato una bicicletta se avessi avuto i soldi quindi questo mi fa pensare che non avevo i soldi e quindi non ho comprato una bicicletta ma la costruzione del condizionale passato diventa appunto ovviamente anche col congiuntivo diventa avrei comprato una bicicletta che non ho comprato perché non ho comprato se avessi avuto i soldi l'avevo comprata però non avevo i soldi e quindi questa è la situazione in cui dicevamo prima il condizionale appunto passato si usa per eventi che erano possibili potevo comprare la bicicletta ma non avevo i soldi e non si è realizzato come si forma il condizionale passato la formazione del condizionale passato è molto semplice ausiliare essere o avere al condizionale presente più il participio passato del verbo che ovviamente esprime in questo caso l'azione al passato quindi ad esempio parlare con l'ausiliare avere si costruisce io avrei condizionale con l'ausiliare avere quindi avrei io avrei parlato e parlato è il participio passato ed è sempre uguale quindi io avrei parlato tu avresti parlato lui lei avrebbe parlato noi avremmo parlato voi avreste parlato loro avrebbero parlato quindi per costruire il condizionale passato per un verbo che ha che usa come ausiliare il ve l'ausiliare avere mi basta semplicemente sapere il condizionale presente del verbo avere avrei avresti avrebbe avremmo avreste avrebbero e mettere insieme il participio passato parlato 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 invece andare che usa l'ausiliare essere tutti molti verbi di moto usano l'ausiliare essere come andare si costruisce in questo modo io sarei andato andata se sono una donna andata tu saresti andato andata lui lei sarebbe andato andata noi saremmo andati andate voi saresti sareste andati andate loro sarebbero andati andate quindi già vediamo la differenza vediamo che beh come prima ausiliare essere partici condizionale presente dell'ausiliare essere quindi sarei saresti sarebbe saremmo sareste sarebbero l'importante ricordarsi i due ovviamente condizionali presenti di essere e di di avere di essere però con l'ausiliare essere dobbiamo andare a ad assegnare il genere quindi andato andata se maschile o femminile e il numero andati se plurale o andate se femminile per ogni persona che andiamo appunto a coniugare come infatti lo dice dopo dice come sempre notiamo che per i verbi con l'ausiliare essere il participio passato concorda in genere e numero con il soggetto uso del condizionale passato quando si usano in quali situazioni quali sono i casi come abbiamo visto il condizionale si usa prevalentemente nelle frasi principali ma può comparire anche nelle frasi subordinate gli usi principali del condizionale passato sono per esprimere un desiderio nel passato che non si è realizzato e vediamo due esempi però potete immaginare qualsiasi cosa mettiate nel passato e che non è successa e vogliate esprimerla avrei voluto ma non ho potuto questo un esempio banale ma abbastanza significativo fare qualsiasi cosa questo ovviamente esempi però quelli ufficiali ieri sarei uscita a fare una passeggiata ma nevicava quindi il problema era appunto che nevicava io sarei uscita a fare una passeggiata è un desiderio nel passato sarei uscita mi sarebbe piaciuto uscire a fare una passeggiata ma nevicava purtroppo non si è realizzato da piccolo avrei mangiato sempre solo gelati beh anche io non mi piacevano tantissimo forse da piccolo mi piacciono più adesso da piccolo avrei mangiato quindi non è successo non è successo per ovviamente vari motivi perché non si possono mangiare troppi gelati però da esprime un desiderio di quando si era piccoli quindi l'idea che se si se si poteva se si fosse potuto si avrebbe mangiato si sarebbero mangiati un mucchio di gelati giorno e notte però ovviamente non si poteva ecco questi due sono due tipiche frasi potete provare a farne altre se volete di desiderio nel passato che non si sono appunto verificate secondo caso esprimere rimpianto o rimprovero per azioni che non si sono compiute nel passato sono molto simili ma hanno un tono diverso sarei dovuto partire prima ecco questa ovviamente ha un tono come dire non è che mi piaceva partire non era un desiderio partire era una necessità ok perché dovevo arrivare quindi è un rimpianto in qualche modo aia sarei dovuto partire prima perché ho perso il treno e ahimè quindi il motivo non si sa esattamente per cui per il quale non è riuscito partire prima comunque è un'espressione di rimpianto la seconda invece è un'affermazione diretta avresti dovuto ascoltare i miei consigli questo è un rimprovero quindi diretto ad un'altra persona avresti dovuto ascoltare i miei consigli ovviamente in tutti i due i casi in questi ultimi due casi l'azione non è successa quindi non sono partito prima e ho perso il treno e questa persona a cui sto dicendo avresti dovuto non ha ascoltato i miei consigli ovviamente altrimenti non glielo direi con questo tono con questo punto esclamativo e con questo condizionale al passato terzo caso per esprimere futuro nel passato cioè per parlare di fatti futuri rispetto ad eventi passati nelle frasi con il verbo al passato quindi stiamo parlando di un tempo quindi sto ragionando su un tempo passato ma di un'azione che si svolge al futuro rispetto a quella a quella principale del passato quindi esempi molto più facile con gli esempi piuttosto che descriverlo ovviamente diceva che avrebbe imparato a suonare il violino quindi diceva è nel passato che avrebbe imparato è un'azione che succede dopo a quando lo diceva quindi diceva che dopo avrebbe imparato a suonare il violino questo non ci dà una certezza oggi se questa persona ha imparato definitivamente bene a suonare il violino però comunque è un'espressione logica che mi dice che già a quel tempo diceva che avrebbe imparato probabilmente ha imparato ed è adesso è molto bravo probabilmente in altro caso non ha imparato ma questa comunque un'espressione che vedete nel passato perché diceva rispetto a un tempo quindi futuro nel passato che avrebbe imparato secondo esempio è capì io capì che sarei riuscito a superare l'esame solo studiando molto quindi nel passato mesi fa anni fa mettetelo dove volete questo tempo comunque capì che sarei riuscito a superare l'esame quindi successivamente studiando molto sarei riuscito a superare l'esame anche in questo caso qui non abbiamo un'affermazione se ho superato poi l'esame o no questo non ci riguarda ma quello che ci riguarda in questo caso è che stiamo svolgendo un'azione nel passato di pensiero di capire sul fatto appunto che successivamente nel tempo riuscirò ok a superare l'esame solo studiando molto quarto caso quarta espressione per riportare un'informazione o una notizia che c'è stata riferita ma che non abbiamo verificato con riferimento ad un evento passato o compiuto condizionale condizionale di dissociazione questa forma è molto usata nel nel linguaggio giornalistico ed è una stessa forma che avevamo già visto nel condizionale quello presente esempi l'anno la polizia avrebbe arrestato due persone sospette quindi immaginatevi telegiornale edizione straordinaria ecco mi viene in mente questo del telegiornale oppure apertura del telegiornale caso di cronaca il giornalista se non ha una certezza totale dei fatti accaduti perché li sta vivendo in diretta probabilmente perché sono fatti che stanno succedendo quasi in diretta ovvio che se è successo giorni o settimane prima c'è una certa certezza di solito però se li sta vivendo quasi in diretta il giornalista dice la polizia questo è successo eccetera eccetera la rapina eccetera eccetera la polizia avrebbe arrestato due persone sospette quindi è un condizionale di dissociazione perché il giornalista non ha ancora verificato completamente che questi siano fatti assolutamente accaduti secondo caso molto simile i vigili del fuoco sarebbero riusciti a domare l'incendio quindi è un caso particolare un caso di cronaca e anche in questo caso qua mi viene in mente lo stesso giornalista che dice appunto i vigili del fuoco sarebbero riusciti a domare l'incendio non siamo ancora sicuri completamente però si dice è probabile che questo sia successo quindi i vigili del fuoco sarebbero riusciti a domare l'incendio altro caso nel periodo ipotetico del terzo tipo o della impossibilità in realtà per esprimere un'ipotesi che nel passato era possibile o probabile a una certa condizione ma che invece non si è verificata quindi questo è diciamo quello che è proprio il periodo ipotetico quello che si chiama proprio periodo ipotetico che è proprio il caso base nella funzione del condizionale del congiuntivo nella loro espressività l'italiana nel rapporto di questi due modi ed è appunto un caso però nel passato perché stiamo parlando del condizionale passato questa forma ipotetica prevede l'uso del condizionale passato nella frase principale e del congiuntivo tra passato nella frase subordinata introdotta da se se qualcosa fosse stato io avrei eccetera eccetera e vediamo questi quattro esempi se ieri ci fosse stato il sole saremmo andati in spiaggia quindi non siamo andati in spiaggia ieri non c'era il sole e nella mia nella mia periodo frase ipotetica quindi la struttura della mia impossibilità in questo caso perché non siamo andati in spiaggia non c'è stato il sole la costruisco proprio in questo modo quindi se seguito dal congiuntivo tra passato ci fosse stato il sole più il condizionale passato saremmo andati in spiaggia quindi saremmo andati in spiaggia se ieri ci fosse stato il sole ieri saremmo andati in spiaggia ecco ve la voglio girare perché poi ovviamente le espressività cambiano i modi cambiano si può leggere tranquillamente in questo modo come è scritta nell'esempio ma si può anche capovolgere ieri saremmo andati in spiaggia se ci fosse stato il sole quindi appunto vedete i due modi condizionale e congiuntivo che sono il rapporto tra loro nella costruzione della frase se avessi avuto i soldi avrei comprato una casa in campagna quindi se avessi avuto i soldi è anche qui il se seguito da congiuntivo tra passato avrei comprato il mio condizionale passato una casa in campagna anche in questo caso non è successo perché non avevo i soldi altrimenti non leggerei non esprimerei questa frase con ipotetica ovviamente che è impossibilità in realtà non è successa quindi è solo un pensiero che in questo momento ho e che esprimo appunto dico se avessi avuto i soldi non ce li avevo avrei comprato una casa in campagna e sono ovviamente azioni che non sono accadute Marta avrebbe preso un cane se avesse avuto il giardino anche in questo caso qua vedete abbiamo capovolto come dicevo prima il se rispetto alla frase al condizionale passato e abbiamo Marta avrebbe preso un cane e questa frase qui da sola ci dice che avrebbe preso significa che non ha preso poi dopo abbiamo la motivazione che è il se avesse avuto il giardino sappiamo due cose di Marta che non aveva il giardino e che non ha preso un cane e questa è la frase che le esprime Marta avrebbe preso un cane se avesse avuto il giardino se Marta avesse avuto il giardino avrebbe preso un cane quindi abbiamo invertito le due principali e subordinata quarto ultimo caso se mi fossi allenato di più sarei riuscito a vincere la gara allora sono sicuro di non aver vinto questa gara ma perché? perché non mi sono allenato abbastanza quindi se se mi fossi allenato è la mia frase al congiuntivo trapassato di più appunto sarei riuscito condizionale passato a vincere la gara ahimè tutti questi quattro casi tutti queste quattro azioni o pensieri non sono non si sono verificati sono impossibili perché sono al passato sono già passate azioni passate che ovviamente non sono accadute per questi vari motivi quindi abbiamo terminato qui il nostro percorso capendo e ragionando il condizionale passato se ci sono dei concetti difficili scriveteci mandateci un messaggio un commento ce ne arrivano tanti cerchiamo sempre di rispondere a tutti andatevi però anche a riguardare la lezione sul condizionale perché comunque molto importante con questo diciamo si va a chiudere il percorso sul discorso del condizionale condizionale presente condizionale passato spero che la lezione vi sia piaciuta come sempre un like e un seguimi sul canale www.itapertutti.it siamo su tutti i social non lo ripeto più ma voglio ringraziare gli amici qua di fianco che come tutti i sabati fate un commento noi tutti i sabati pomeriggio siamo qua e possiamo scriverci qui nell'elenco dei commenti siamo su youtube e ci sono anche io ovviamente a scrivere a tutti voi quando avete delle domande solo per i saluti solo per i baci gli abbracci tanti saluti a presto buona settimana ci vediamo sabato prossimo per una nuova lezione di italiano per tutti ciao 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 ciao